rischia dai quattro agli otto anni di carcere francesca sciò qui l'avvenente lobbista che da studentessa della provincia cosentina divenne super consulente del vaticano arrestata con monsignor valejo balda per la divulgazione di documenti riservati della santa sede il suo rilascio nella fase cautelare è avvenuto solo dopo un'ampia collaborazione con la gendarmeria delle sacre mura sarebbe lei quindi uno dei corvi di batili x2 scandalo successivo ad una prima fuga di notizie riservate dal vaticano che risalente al 2012 sotto il pontificato di benedetto xvi travolse l'ex maggiordomo paolo gabriele i documenti trafugati nel vaticx 2 inerenti manovre sospette tra le finanze vaticane sarebbero stati consegnati ai giornalisti gian luigi nuzzi ed emiliano fittipaldi per la redazione dei libri di prossima pubblicazione via crucis e avarizia giovane brillante francesca sciò qui era stata scelta direttamente da papa francesco unitamente a monsignor valejo balda come figura di fiducia nella commissione d'inchiesta sulle finanze vaticane per me si avevano avuto libero accesso alla casa di santa marta dimora del santo padre e da circa un anno si erano alimentati sospetti in ragione della loro rete di relazione all'esterno della santa sede una fiducia riferiscono alcuni vaticanisti già da tempo è venuta meno da parte di papa francesco verso i due presunti corvi in ragione delle loro tendenze mondane dell'ostentazione del potere che attribuiva loro il ruolo assunto e delle rispettive conoscenze tra i media e nei potentati ai vari livelli grazie a tutti